Vai Luca! Prima posizione per l'atleta Simone Piccoli che va al controllo Vai Luca! Dai Luca! Dai Luca! Dai Luca dai! Brutta caduta per sei atleti Siamo al passaggio dei punti Dai Luca! Dai Luca! Cento Suono ancora la campana Si sta trollando il precedente 149, 28 il traguardo precedente Dai Luca! 28, 149 l'attuale passaggio Quantità sono di questi? Peccato questa gara falsata da questa grande caduta di sei atleti Dai Luca! Ora con il ritotto ancora Simone Piccoli a prendere la prima posizione Dall'esterno ci prova Jacopo Cruignaletti con il 144 Dai Luca! Dai Luca! Dai Luca! Prova a ripartire Prova a ripartire Applauso al 149 dai! Carlo Taglia 2 Si sta trollando Si sta trollando E si è ancora con piccoli L'atleta sardo 2, 22 Vediamo i 28 2, 22 L'Ikeni Giordano va a prendere un altro punto Vai Franchi! La prima della perdigese Ai meno 5 Per perdigese Allora andiamo a cercare Jacopo Badin Vedin dovrebbe essere 3, 5, 8 Tutti staccati i numeri Comunque perdichese 3, 5, 8 4, 7, 6 4, 7, 6 E quello da macchia E quattro avevi doppiato Ah e doppiato E' doppiato! 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 E' più da qua E' più se non lo compi Che è più da qua E' più da qua Qui ancora di nuovo al passaggio Quattro, scelta e sei E' più da qua E' più da qua E' più da qua Quattro, scelta e sei siamo all'ultimo giro ultimo giro con piccoli arrivo, arrivo, arrivo numero 8 numero 8 con i numeri tutti staccati partiti subito cantini numero siamo a meno 14 subito velocità molto alta per questi ragazzi si va alla ricerca delle posizioni suona la campana di meno 13 si va subito a ritmo alto con l'atleta Onesti 212 ancora il comando Onesti 212-43 primo tramonto Ancora passaggio il meno 11 passaggio il meno 11 3-4-3 al comando è l'atleta Onesti l'atleta Onesti vado a ritmo con il catalese 43 43 43 3-43 è battiato che va a prendere il punto l'atleta Onesti ora via l'altra 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 181 per i ragazzini della vertichese che va ad allungare per l'azione uscita fuori bene vediamo l'alarnino 181 212 con Masso Maggiolo 2 punti via con l'atleta di alto e cercato e Cciolo numero 9 Cciolo va via di prepotenza con l'atleta di Siena ora in seconda posizione Cciolo Andrea sono lì 9 3-3-3 Tommaso Marzucchi il gruppo si frattiva con Cciolo ancora in comando suona la campana Cciolo Marzucchi ritorna il gruppo Ritorna il gruppo Onesti controlla a meno 3 ha energie da spendere Onesti ancora in comando con la teta di Siena che va Ishiya Mazzucchi 212 333 quando hai passaggio siamo all'ultimo giro Oresti Mazzucchi Bantiato avviene su Scaltenino terza posizione seconda posizione per Scaltenino arriva arriva bella batteria 3 allora 1 2 3 4 5 6 6